All'interno di una cornice di iniziative volte ad avvicinare il pubblico presente qui a Bolzano alla grande musica di Beethoven, di Schubert, di Bach, abbiamo inserito anche questo appuntamento nella cornice intima e poetica della montagna e della funivia del Renon per trovare l'occasione di un dialogo a stretto contatto con il pubblico e presentare loro questa musica che a sua volta è poetica, intima e fortemente comunicativa. Eseguirò soprattutto musica di Schubert, di Beethoven e di Bach Busoni ma lascio spazio all'ispirazione che verrà durante il giorno con ogni salita e discesa e con le persone che incontro. Il trasporto pubblico ovviamente viene utilizzato per recarsi al lavoro, per recarsi a scuola ma dovrebbe a nostro avviso essere utilizzato anche molto di più ancora nel tempo libero ovvero per lo sport, escursioni, per gli amici ma anche per la cultura e per la musica. Quindi con questa azione assieme alla Fondazione Busoni Malle vogliamo promuovere e vogliamo mettere sotto un ombrello trasporto pubblico e musica e speriamo che i passeggeri lo apprezzino. Un nuovo format, quindi non solo concerti frontali ma anche divulgazione, anche una mostra d'arte alla Galleria Civica. E non ultimo questo Fly in Piano, progetto sperimentale che sta avendo veramente un grandissimo riscontro.